Ben trovati in un nuovo appuntamento di Legal Corner dedicato come potete leggere dal titolo della nostra trasmissione a un tema particolarmente caldo, quello della settimana lavorativa corta che si inserisce in un dibattito più ampio che riguarda le nuovi modi di organizzazione del lavoro. Lo sappiamo ecco la settimana lavorativa corta in Italia è ancora soprattutto un'ipotesi se ne parla tanto ma di casi ce ne sono ancora pochi mentre se guardiamo oltre i confini del nostro paese ad esempio negli Stati Uniti, in Giappone oppure nei paesi scandinavi vediamo che qualche esperimento concreto è già stato fatto e naturalmente ci sono anche i primi monitoraggi, i primi risultati se effettivamente lavorare un giorno in meno alla settimana produce degli effetti benefici. Ebbene ecco i primi risultati sono positivi soprattutto sul benessere dei lavoratori che essendo più soddisfatti, più contenti, meno stressati tenderebbero anche a ridurre il famoso turnover e non ci sarebbe poi un impatto negativo in termini di produttività ma dobbiamo capire se la settimana lavorativa corta presenta solo queste luci, questi lati positivi o se effettivamente c'è anche qualche criticità. Ne parliamo naturalmente con il nostro esperto l'avvocato Luca Failla, managing partner dello studio legale Failla. Avvocato a lei la parola. Grazie mille, buongiorno. Il tema è certamente un tema delicato e molto di attualità. Se ne sta parlando da diverso tempo oramai in Italia ci sono anche esperimenti avanzati, accordi di importanti imprese che hanno catturato la ribalta e l'attenzione della stampa non solo specialistica quindi del gius lavoro. Credo che tutto parta dalla pandemia. La pandemia è stata un grande spartiacque tra il prima e il dopo, l'abbiamo detto un sacco di volte, le vecchie forme organizzative del lavoro, le nuove forme organizzative del lavoro, il lavoro da remoto, lo smart working, sempre più, nonostante fortunatamente siamo usciti dalla pandemia, sempre più la forza lavoro, i lavoratori, i collaboratori chiedono all'azienda di mantenere quelle forme di lavoro flessibili flessibili che durante la pandemia erano state, come dire, obbligatorie. Quindi ne abbiamo parlato di smart working, come dire, pandemico, come qualcosa di patologico, di forzato. In realtà però ha aperto questo fenomeno, ha aperto gli occhi sia alle aziende che ai lavoratori. I lavoratori non sono disposti a tornare indietro alle forme di lavoro classico. La domanda, molto spesso spinta anche dall'organizzazione sindacali, è quella di mantenere forme di flessibilità. Ecco perché si parla di settimana corta. La settimana corta è tema che all'estero, come è stato ricordato, è già stato affrontato. C'è una legge addirittura in Belgio, ci sono esperimenti nel Regno Unito, ci sono forme avanzate di flessibilità, soprattutto nei paesi scandinavi. In Italia, diciamo così, se ne parla, però poi alla fine c'è una diffidenza da parte delle aziende. Perché? La diffidenza è molto semplice, è dire, ma come faccio come un'azienda a garantirmi, con una riduzione dell'orario di lavoro settimanale, quindi con una riduzione effettiva dell'orario di lavoro, la stessa quantità di lavoro che io avrei con un lavoratore, come dire, l'impiegato a tempo pieno. Perché non dimentichiamo che quando noi parliamo di settimana corta, noi parliamo di parità salariale, cioè non c'è nessuna riduzione nella remunerazione. Allora, è chiaro che questo crea ancora nelle aziende, diciamo così, di matrice più italiana, o comunque con un management italiano, una difficoltà. Questo perché? Perché storicamente ci portiamo dietro una grossa difficoltà che è data proprio dallo schema del contratto di lavoro. Il contratto di lavoro è uno schema dove il rendimento non entra, come dire, tra gli elementi del contratto. Il contratto di lavoro è qualcosa che si bilancia solamente su due presupposti. Da una parte la remunerazione, il salario, e dall'altra la quantità di ore, lavoro, che vengono acquisite, comprate. Possono essere il divisore mensile, 160, 163, eccetera. Il rendimento non fa parte di questo meccanismo, quindi nel contratto il rendimento è una variabile, qualcuno dice, una variabile indipendente, che dipende in realtà da molti fattori, dall'attivismo, del lavoratore, dall'approccio, dall'impegno, dall'intensità, dallo sforzo, eccetera. Allora, la mia proposta per superare questo impasse della settimana corta nelle aziende è quella di vincolare la settimana corta e il mantenimento della settimana corta a un parametro, a un parametro di rendimento che sia identificato dall'azienda e dai lavoratori, come dire, con una sorta di regolamento contrattuale, il patto di rendimento. Io, azienda, sono disposta a ridurre l'orario di lavoro a 38 ore, a 35, a 34, a 32, a 30 anche, a condizione che mi si venga garantito, e qui c'è un patto, un accordo che viene stipulato tra le aziende e i lavoratori interessati alla settimana corta, mi venga garantito un rendimento qualitativo e quantitativo non inferiore a certi parametri, che andiamo a definire insieme e oggi, come dire, la fissazione di parametri qualitativi e quantitativi non è più un problema, soprattutto per le, come dire, attività di cui si sta parlando, cioè è ovvio che noi stiamo parlando di settimana corta nell'ambito soprattutto del terziario, del terziario avanzato, di chi svolge attività di servizi utilizzando macchine, computer, tecnologia e quindi è facilmente misurabile. Ecco, la mia proposta è una proposta che cerca di risolvere le difficoltà anche, come dire, di approccio da parte delle aziende, perché in questo caso sarebbe più facile per un'azienda, io parlando con tanti manager, con tanti amministratori, la domanda che mi sento fare è questa, ma io come faccio ad avere garantita la stessa quantità di lavoro se il mio lavoratore lavora di meno durante la settimana? E questa è la risposta, una risposta tutto sommato anche semplice. In Italia negli accordi sulla riduzione dell'orario di lavoro, devo dire, di rendimento non si parla, si parla solamente di riduzione dell'orario di lavoro. Molto spesso si è parlato di riduzione, ridistribuzione, invece di lavorare il venerdì, le ore del venerdì che non vengono lavorate vengono spalmate durante la settimana e quindi è chiaro che non c'è una riduzione effettiva dell'orario di lavoro. Quello che propongo io invece è una riduzione effettiva dell'orario, invece di lavorare a 38 ore se ne lavora 30, magari con dei giorni a scelta anche del lavoratore, tuttavia con questo impegno, l'impegno di produrre e di realizzare una attività qualitativa quantitativa non inferiore a certi parametri che sono stati negoziati preventivamente con l'azienda. Che succede? Mi si chiede se i lavoratori, i lavoratori non raggiungono quei parametri, vengono licenziati? Verrà ridotto lo stipendio? Assolutamente no, evidentemente, non si parla di questo. Diciamo così che i parametri dovrebbero essere monitorati, allora il mancato raggiungimento del parametro in una settimana potrà dar luogo ad un, come dire, verifica nella settimana successiva, si potrebbero identificare dei parametri temporali più ampi della settimana, magari misurarlo su base mensile, su base bimensile, su base trimestrale. In caso di perdurante e mancato raggiungimento degli obiettivi, il lavoratore perderà il beneficio della settimana corta e tornerà quindi all'orario classico, che era quello originario, con, come dire, un ritorno alla prestazione lavorativa anche in presenza e ad un controllo spazio-temporale. Quindi è chiaro che è una scommessa, una scommessa sia per il lavoratore che per le aziende, ma mi pare una scommessa che valga la pena di essere in qualche modo affrontata. Io credo che questa sia la sfida del futuro, perché poi dalla settimana corta sarebbe facile passare alla giornata corta e quindi di superare anche il vincolo temporale delle otto canoniche ore, delle sette ore e mezza timbrate da cartellino. Perché non parametrare la presenza sul lavoro del lavoratore al raggiungimento di un risultato? Credo che questa sia la sfida, la sfida del futuro per aziende e per lavoratori. Grazie.